E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video Anche oggi ragazzi con Fall Guys questo è il secondo episodio ma solamente grazie a voi Ho visto che il primo video che ho caricato sul canale è andato molto molto bene Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta Anche comunque leggendo i vostri commenti ho visto e ho notato che siete interessati a questo contenuto E quindi non potevo non portarvi un secondo video Peraltro oggi saremo in compagnia di Checco Bomba Quindi ne vedete delle belle e ovviamente le vittorie sapete già che non possono mancare Ma prima di tutto ragazzi, prima di tutto molto molto importante Mi invito da subito a lasciare un bel mi piace a questo video Solamente per il coraggio che ho nel creare contenuti con questo caldo maledetto Io ragazzi abitando in Sicilia il caldo è un qualcosa di veramente devastante E non vedrò la Caribe in inverno Quindi un mi piace solo per il coraggio Vi ricordo ragazzi inoltre di seguirmi su Twitch dove appunto io faccio le live streaming tutti i giorni Sia la mattina che la sera per un totale di 10 ore passa Questo ragazzi è il link oppure lo trovate comunque qui sotto in descrizione Stessa cosa vale per Instagram Comunque per essere sempre aggiornati su eventuali news O comunque su nuovi video O per quando vado in live Quindi anche questo ragazzi trovate il link in descrizione Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al video Buon divertimento ragazzi Ho capito chi è già Questa è la mia preferizione Oh ma sempre sei piccioni Oh Leonardo zitto zitto Se se levano però c'è troppa gente Eh 3yard up bimbo moledetto Che 3yard up c'è troppa gente da avanti Mamma mia buonica Secondo? Quando ci quelli figami in tanti a? Mamma mia pezzo Eh non so che mai mi piace Oh gravi ragazzi Sono un po' di blocca troppo No ce l'ho fatta E mi Oh No mi fa Hai visto che non è Sto messo Sto messo Sto messo Sto messo Sto messo Sto messo Draghi Grazie Grazie Nuggets Non è Che Forco sciro Vado a Torbayarica Ah io sono Sazza Posta Ma P Tages Ma Si scivola Prima fila E' un stavardino al panino! Eeeh! Ti prego, porta! Eccoli! Vai tutti lì! Ok, ok, stanno, stanno! No, mi hanno fatto il panino! Molte mattine, oggi forse, stasera ti faccio sapere qualcosa che avevo detto io! Va bene, va bene, va bene! Eeeh! Mamma mia che muro ho preso! Esco! 20esimo! DG, ragazzi! Non era complicato questo! Qua faccio cadere qualcuno! Tanto so già come fare! Quindi questi cosi si muovono e non devono cadere! Questa mappa si, ora faccio cadere tutti! Devo andare sull'erba verde! Vieni checabomba, vieni qua! Vieni, vieni qua! Vieni, vieni qua! Eccola la mattina! Ma è easy ragazzi, è easy! Eeeh, si, una patatina è caduta! Ha detto è easy ed è caduta ragazzi! No, è easy ed è caduta! Ma Gio è morto, non ho capito! Sì, sì! No, Leo è morto! Pure Giotti? Sì, prima il count è qui! Spettate! Oh, tranquillo! Rimani putto ad altre 40 ore e parliamo con te! Tranquillo! Scusami se non è giornata oggi! C'è! Sto morendo! Non sono mai morto il primo round! Sì, sì, sì! Ci abbandoni sempre! Mai morto il primo round! Oh oh! È troppo veloce! Guarda, l'ha masterato il livello! Che sto zitto la prossima volta! Che è che allora? Guarda che l'ho fatto apposta il salto! Eh lo so! Dalla mia visuale sembrava... Two heads for us! Ragazzi qua bisogna centrare i buchi! Checco non puoi sbagliare eh! Dai Checco vai vai! Io ormai i buchi mi centro tutti! Mi sono allenato! 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 Guarda, l'ho là! Sul tapirulanna! Quella c'entra bello sano sano! Attenzione eh! Ah c'è quello da razzo! Eh! Ce la fa il rosso! Ce la fa... No! Che è stato! Dai questo è mio! Vabbè state sopra dai! Speriamo che ci stiamo solo! Sì sì c'è stato! Ok! Dai sponate però! Checco! No! 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 Checco! Che massa! No! 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 Questo è mio! Guarda come si lancia! Buco mio! Eh! Mi sa che... Buco mio! Ho preso tre buchi di fila ragazzi! Sono un master! Quattro buchi miei! Prendo pure... No! No! Ho preso quell'oro! No! Ho preso quell'oro! Sono troppo forte ragazzi! No! Basta! No! Datemi la medaglia! Blu poverini! No! Io ho preso tappi buchi ragazzi vi giuro! Un saluto ai buchi! Eh si va! Gigi! 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 Ho contestato... Per... In questi due minuti di partita ho contestato il lavoro di Rocco Siffredi scusatemi! Ma molte... No! Eh! Vabbè rioppitati! Vabbè qualcuno l'ho cercato! Eh! Le patatine di San Carlo! Che avevate capito! Ok Martina! Vai! Vai Martina! Non so se non becco... Però non vale oh! Attenzione! 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 Attenzione attenzione! No! No! Madonna vi spacco... Secondo me! Checco la prende! Oh! Oh! Lasciala a Checco! Vai Checco! È mia! È mia! È mia! È mia! È mia! Ed è mia! Questo ormai è il mio livello! Basta Vamo, vamo, vamo Ma che cos'è a sinistra mia? Io sono dietro Dove si va? Perfetto, andiamo Sono arrivato l'ultimo, l'hanno tutti tirato via Ma che è? Sì, sì, che copo Ma ci ha tirato via tutto Dai, che cosa va l'altra porta, dai Va bene, va bene Lo sapevo che era questa L'ultimo c'è l'ha mucchiata Sì, 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 sì Oh, madonna Porca sozza Madonna santa Aia, aia, aia Le sono i miei Le sono i miei Non ce la faccio Come non ce la fai? Sono 7, ma io No, 41 qualificati ce l'aveva per forza, dai Sì, dai Io tre disceso L'ultimo polletto L'ultimo polletto è davvero Polletto rinforzante Le sbaglio Come se chiappa? Eh, con il tasso sinistro del mouse È vero Stiamo perdendo Vabbè, ancora un minuto e mezzo È butta È porca sozza Gialla no, ragazzi Il gialli no Il gialli no Ok, trova La porta da dentro Eccola Da me Da regà, da regà Dobbiamo vincere Regà Forse non è chiaro che abbiamo già vinto No, dobbiamo difendere però No, abbiamo troppo in base Eh, ma c'hanno Non vedi che questi No, no, no Basta che ci mettiamo in base Ok, ok Ci sono i blu che ci stanno levando la palla Adesso non ce la faranno mai Ciao ragazzi Easy win per noi Che devo fare? Vedi che c'è blu Ah, sì è blu Che devo fare? Non capisco Devi guardare l'immagine e ricordartela E poi quando appare Devi andare sulla piattaforma Allora Banana Ovviamente Quindi era qua Qua, era qua Ok, io seguo Martina Perfetto Perfetto Mela saranno le altre Arancia, arancia Banana Arancia Io sto sull'arancia Già stavo sull'arancia Guarda questo Io ci sto già Let's go Ok Anguria C'è l'uva ragazzi Dai, dai Questa è l'ultima L'ultima Banana Anguria Cileggio Cileggio Qua dovrebbe essere cileggio Da me No, sbagliato, sbagliato Sbagliato Dovrebbe essere qua ragazzi Mi ha saltato Ti è caduto Leo? No, no Finito Finito No, no Stanno sulla rivecicosa Ah, io c'ho la codina Eh, ma è individuale Che ecco Quindi Presa Via Se scappa Comunque qua Qua che ho un ping migliore vince Questo gioco mi sta proprio sul caos Checca ma se ti ruba la coda Ti incaffo Sì Sono rubata da te Sfiga pezzo di Via Via Rubata Via Fazzanapoli 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 Ma guarda se non vinco Ma guarda che è da bestemmiarci Io mi fermo qua sulla piattaforma Galla No, me la ruba Oh, prendi la No, ragazzi Me la ruba dall'ultima Parola E vabbè Easy L'ho presa l'ultimo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Qualiclata Mamma mia Sei in prima fila Tu sei vantaggiatissima Davvero? Eh sì Io sono in Non è l'ultima Ecco, sono già caduto Grazie Non ho mai fatto Sto livello Mannaccia A me Vabbè però Vabbè ok Mia madre è proprio bella No Sei avanti Sei avantissimo Ce la puoi fare No Io l'ho perso Sono d'accordo Io l'ho perso Siete voi avanti L'ho perso Eh sì Vabbè regà Ti giuro No vabbè Comunque Qua è proprio sfortuna Mi è arrivata Una pallina addosso Mi si rialza E mi ritorno nello stesso Nello stesso posto La pallina Mi rialzo Mi ritorno Un'altra Nello stesso posto Mi rialzo E mi ritorno Un'altra In che senso Chi sei dietro Scusami No no Mi risolio Nel senso Era una domanda Cioè Informa Por Io so già Che non mi suona Il pang Io mi so Pesare Muro Por Non mi qualifico Non mi qualifico Non mi qualifico Ci guarda Perché sono più indietro Di mia madre Mi so che non ci arrivo Ragazzi Mi dobbiamo arrivare Per forza Perché mi chiamo Checobomba Ok Madonna sti capelli Che vanno sul naso Non vengo Non vengo C'ho il ventilatore Che mi butta i capelli Sul naso Mi dà un fastidio Mamma mia Questo birino Quando è bello Cioè Sembra fragola Sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Attività fisica No mi hanno grabato Ma perché mi prendi Ma è tutto sto condotto fisico Ho eliminato Bene Parti a te Tutto apposto Nel chilling Mamma mia Ti 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 Dai altri 4 Chi non lo fa Ran λ io Eccolo Tu che ti è tanto vivo Sfatta Io È giocattina Vabbè io Celterilo che non puoi confonderti Non lo so a nessunostoco Grazie Niente È contatto fisico Vabbè GG Dai GG GG GGG GGod faccia Il primo è nostro Ok Su Sperziamo Vabbè Allora pensi dei fregami il buchetto arrivo arrivo ma dopo allora quando è loro quindi di land arci adesso fidate ha preso l'ha preso lui non mi funziona il tasto destro ok tesoro ora 22 arrivo mamma mia i nostri rossi mamma mia ok me la stilato sotti e corri sono troppo pesato ci ho messo troppo salsa su sto coso si uno 181 prendo quello che coloro prezzo e vabbè si bamba la bamba ragazzi 72 mi sono fermata ecco ormai g ormai era gg ho bloccato 50 avversari mentre mamma mia troppo fluida l'etico abbiamo a vedere aveva mamma mia ragazzi no 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 ci siamo ci siamo parata abbiamo fatto con l'abbiamo fatto col che non ci credo no 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 sono io a parare gg martin riesco a difendere che sarei l'ammasso ok contestati tutta della via ragazzi ho difeso di preso di preso ok ci sarà forte anche portare mamma mia ragazzi vai 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 sono a centrocampo sempre ok con la guarda con la scuola pesciata cambiata tripla e due ok non scherziamo ci siamo ci siamo l'uccello porta c'era ragà 20 secondi 20 secondi l'ho fatto sbaldare via gg gg quindi finale per gg martina si vado dritto guarda come vado c'è la spinta che è gta più veloci di tutti guarda si aprono le strade come Gesù la palla ok mamma mia sembrano sempre mi dissocio tantissimo martina si deve pia una palla quell'altra siamo oh mio ottio prima 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 ci arriva martin ce la puoi fare martin no no sono troppo forte basta questo è il mio livello il mio il mio ed eccoci qua ragazzi questa è la fine del video io spero che vi sia piaciuto mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se vi è piaciuto se vi siete divertiti e soprattutto se volete un terzo episodio di Fall Guys grazie a tutti quanti ragazzi per il supporto io vi auguro una buona giornata e ci becchiamo a un prossimo video bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Grazie.